Thailandia, paese dai mille volti, che sorprende per la sua atmosfera solare e la natura incontaminata, ma soprattutto per il volto e gli occhi sorridenti della popolazione. Tra spiagge meravigliose e lo sfarzo di antichi templi, vivrete esperienze uniche per intensità, bellezza e coinvolgimento emotivo. Tour Voyager Siam di Viaggi Idea, Con esclusive escursioni su tipiche barche locali, andrete alla scoperta delle meraviglie di Bangkok, passeggiando lungo il mercato dei fiori, visitando l'imperdibile Palazzo Reale e i templi di Wat Po. Gusterete infine un aperitivo al tramonto, di fronte al tempio di Wat Arun. E l'antica capitale, Ayutthaya, nel tempio più famoso della Thailandia, ammirerete i tradizionali tatuaggi effettuati dai monaci. E poi, in un'atmosfera da sogno, nel meraviglioso sito di Sukotai, vi sarà servito un cocktail al tramonto all'interno di un antico tempio. E ancora, l'area del Triangolo d'Oro e Chiang Mai, dove soli viaggiatori Viaggi Idea vivranno un'esperienza indimenticabile. All'alba, sarete coinvolti all'offerta di cibo ai monaci buddhisti, che all'interno di un suggestivo tempio, vi introdurranno alla filosofia della meditazione, in un ambiente colmo di spiritualità. Viaggi Idea vi offre inoltre estensioni di atturi in Laos e in Cambogia, con soggiorni balneari in selezionati hotel 4 o 5 stelle, lungo le più belle spiagge della Thailandia, o negli intimi boutique hotel Chic Escape sulle isole di Komu Norque e di Koh Phangan. La Thailandia di Viaggi Idea. Scoperta, esperienza e spiritualità. Scoperta, esperienza e spiritualità. Scoperta, esperienza e spiritualità. Scoperta, esperienza e spiritualità. Scoperta, esperienza e spiritualità.